fondi e sicav investment club oggi ha come ospite paolo proli diamondi paolo benvenuto grazie grazie a voi dell'invito ecco entriamo subito nel tema della giornata perché oggi andremo a toccare quali saranno le maggiori opportunità per il 2024 avete appena pubblicato un outlook in cui parlate di cambio di rotta che cosa vuol dire in concreto ma innanzitutto volevamo giocare un po ovviamente sul vento sul cambio di rotta sulle navi sulla direzione anche degli investimenti che probabilmente questo 24 vedranno un cambio di rotta soprattutto sulla componente dei tassi tassi di interesse sono stati alzati durante il 23 in maniera molto rapida e sostenuta da parte delle banche centrali ecco la dinamica è e quindi per combattere l'inflazione ce l'abbiamo già fatta cosa succederà nel 24 allora diciamo questa è la semantica di quello che andremo ad affrontare nel 24 3t tassi quindi cambio di traditorio sui tassi transizione sta cambiando qualcosa sulla transizione energetica e le tematiche strutturali quali sono sono sempre le stesse c'è qualcosa che sta cambiando e vi rando rotta ecco facciamo subito dalla prima partiamo dai tassi che cosa vi aspettate allora sui tassi di interesse molto semplice 150 basis point di taglio da parte della federal reserve 125 da parte della banca centrale quando verranno fatti questa è la dinamica verranno fatti a marzo come il mercato stava già un po stimando e quindi aveva già iniziato a riconvertire oppure verranno fatti a maggio giugno come ad esempio amundi sta dicendo in questo momento su attraverso su outlook abbiamo paura che probabilmente l'incisività dei tagli di tassi sarà veramente la partita game changer del 24 perché ovviamente avremo bisogno durante questa prima fase di aumentare il posizionamento sulle duration dei titoli governativi e poi essere pronti però anche a cambiare la traiettoria per capire quali asset class e quale componente obbligazionale inserire nei portafogli arriviamo alla seconda t che ci hai citato prima che è transizione perché anche in questo 2024 la transizione sarà così importante dal nostro punto di vista la transizione sarà per sempre importante nel senso che sta diventando veramente anche un tema strutturale di lungo periodo il tema è quello della politica fiscale le politiche fiscali mondiali sono posizionate ad affiancare le imprese a transitare verso una economia che non sia più spinta da energia a idrocarburi quindi non dobbiamo più mettere biossido di carbonio abbiamo del commitment degli impegni per l'umanità di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 questo vuol dire che dobbiamo cambiare le nostre abitudini ai consumi vuol dire che l'industria deve modificarsi i nostri palazzi devono consumare meno energia devono essere sicuramente elettrificati tutti i modelli sia energetici per le imprese che quelli ad esempio dell'automotive ecco tutto questo è un cambiamento strutturale dalla base quindi dai benesseri sociali della popolazione quindi famoso capitalismo responsabile che va a non esagerare in quello che è stato l'utilizzo delle risorse del pianeta e soprattutto di superare i boundaries cioè i limiti i limiti ecologici che purtroppo ci hanno portato una situazione climatica devastante e quindi i capitali soprattutto privati si stima che ce ne sarà bisogno dell'80 per cento di capitali privati per arrivare alla transizione energetica di cui abbiamo bisogno debbano continuare la loro traiettoria aiutiamo le imprese a virare aiutiamo l'energia a diventare rinnovabile e alternativa rispetto a quella carbon fossile ecco il terzo tema di cui ci parlavi è quello dei temi strutturali quali sono oltre a quello della transizione energetica quelli che ritenete più interessanti e più importanti allora sicuramente legato alla transizione energetica c'è tutto il tema delle infrastrutture dei mercati emergenti che devono sviluppare tecnologia ovviamente anche loro per svilupparsi ma consumare in maniera diversa rispetto ad oggi c'è il tema ovviamente anche della produzione alimentare del cibo dell'agrotech un agrotech che diventa sempre più diciamo tecnologico meno inquinante e meno ad utilizzo del suolo perché l'altra componente di grande diciamo emissione di biossido di carbonio è proprio l'agricoltura e la gestione del suolo poi abbiamo cicli di lunghissimo termine che possono essere regolati indubbiamente all'interno di una politica di sviluppo sostenibile nessuno di noi ha mai parlato di recessione sostenibile casomale la recessione avverrà se i tassi dovessero creare un minor consumo a livello internazionale ma la traiettoria di sviluppo di sviluppo sostenibile invece ci porterà sicuramente a posizionarci su quei paesi anche nei mercati emergenti che più ci daranno le risorse di cui abbiamo bisogno per questa transizione e quindi anche lì il tema del ciclo potrebbe essere l'infrastruttura non solo i ponti i porti e le transizioni diciamo legate a questo ma quella digitale pensiamo ad esempio al tema del pitch to switch no che anche qua nel nostro outlook stiamo affrontando quale paese emergente su quali paesi emergenti abbiamo il latino america sicuramente rappresenta l'energia l'energia e il materiale di cui avremo bisogno pensiamo al messico pensiamo al brasile ma in asia in asia abbiamo la digitalizzazione in asia abbiamo l'india abbiamo il cosiddetto near shoring oppure il friend shoring cioè ci si reimporta in casa la produzione soprattutto quella della competenza digitale e l'india è the place to be probabilmente in questo momento non lo abbiamo detto prima ma un grande tema è proprio differenziale della crescita tra mercati emergenti e mercati sviluppati il 2024 vedrà il mondo crescere del due e mezzo per cento i mercati emergenti in questo momento hanno un differenziale di quasi tre punti punto nove per cento rispetto agli sviluppati saranno loro il motore del mondo e l'india probabilmente sarà quello principale scavalcando anche l'importanza economica della cina per i prossimi anni ecco gli ultimi anni sui mercati ci hanno insegnato però che dobbiamo sempre tener conto anche del fattore rischio rischio che è sempre più preponderante anzi una presenza ormai certa all'interno dei nostri portafogli quali sono i fattori di rischio che ritenete più importanti si rischi ci sono sono congiunturali e sono sempre presenti la dinamica come gestire all'interno di un portafoglio indubbiamente con cautela anche per questo 2024 perché è fragile la situazione attuale perché abbiamo dei massimi sui prezzi dei corsi azionari ad esempio rappresentati solo da pochissime aziende noi abbiamo visto come lo standard in pur 500 tendenzialmente prendiamo le prime dieci aziende ha fatto il 60 per cento in più di performance rispetto a prendere tutte le altre aziende e ci sono aziende come apple che oggi capitalizzano 3.000 miliardi cioè quasi praticamente tutto il russo del 2.000 come tutte le altre 2.000 aziende americane e non sono sicuramente in questo momento rappresentative della realtà economica dei consumi e dei rischi che sono anche quelli ovviamente uno di una recessione più grave di quella che stiamo stimando che potrebbe arrivare proprio dalla politica dei tassi che potrebbe portare a un rallentamento economico troppo aggressivo per combattere l'inflazione abbiamo il rischio geopolitico il rischio geopolitico è importante sia dei conflitti che sono sempre più presenti sia del protezionismo di stati che vogliono iniziare a chiudersi dai rischi geopolitici internazionali guardando molto a loro stessi e in questo ovviamente questo è un anno di elezioni ci sono tantissime questo è l'altro l'altro aspetto quest'anno vedrà oltre il 50 per cento della popolazione mondiale andrà al voto e non dimentichiamoci tra questi ci saranno che gli stati uniti quindi la più grande democrazia è la locomotiva economico finanziaria cosa potrebbe succedere ma indubbiamente diciamo che lo sappiamo tutti che un cambio di rotta ad esempio con un trump che ritornasse al governo indubbiamente ci porterebbe delle grandi perplessità anche su quella che è stata la politica fiscale attuale di biden la politica di ritorno alla transizione energetica da parte gli stati uniti in america come un diciamo un driver di cambiamento e questo ci creerebbe sicuramente delle incertezze e magari una nuova composizione di scacchiere anche in quella che io considero comunque la più grande e più importante battaglia per il futuro che è proprio quella della transizione energetica io spero personalmente che questo non avvenga proprio perché vorrei dare continuità agli obiettivi di net zero per il 2050 che hanno bisogno di tutti gli stati sovrani sono 195 di lavorare insieme per far sì che l'atmosfera non sia un problema ma un'opportunità per l'umanità sul pianeta grazie paolo ti aspettiamo alle prossime puntate di fondi e sicav investment club grazie grazie a voi a presto grazie a voi